Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, è recentemente intervenuto su Twitter perché è anche un cinguettatore Bergoglio, Papa secondo alcuni, secondo altri il vero Papa resta Ratzinger, da che Ratzinger ha rinunziato all'esercizio del munus e non al munus e quindi propriamente ancora al Papa, ma questo è un altro tema di discussione affrontato in altra sede, affrontato anche da Andrea Cionci in Codice Ratzinger e da Alessandro Minutella in Pietro dove sei. Bergoglio comunque, Papa o non Papa che sia, ha cinguettato come se fosse il Papa e lo ha fatto facendo una sorta di riflessione, se così vogliamo chiamarla. La sua è sempre una ecclesiologia della banalità, va detto, è una teologia dell'ovvio, però anche l'ovvio vuole la sua parte. In ogni caso in questo cinguettio ha detto tra le altre cose che Dio è sostanzialmente amore e che non interviene mai negando la nostra libertà e le nostre scelte, anzi Dio interviene sempre rispettando la nostra libertà e le nostre scelte e questo in effetti è un concetto che per una volta tanto è pienamente coerente con la tradizione teologica occidentale, è un tema sul quale anche Tommaso d'Aquino, anche Dante Alighieri riflettono. Come può Dio, se è onnipotente e onnisciente, non interferire con la nostra libertà? Sa già quello che faremo, ma quindi è predeterminato quello che faremo, oppure pur essendo onnipotente lascia un margine di libertà al nostro agire? Ecco, tema teologico fondamentale, il libero arbitrio nella tradizione cristiana cattolica poi verrà preservato e quindi per farla breve Dio, in questo caso a ragione Bergoglio, interviene sempre rispettando la nostra libertà e le nostre scelte. L'uomo è l'animale che liberamente sceglie, secondo ragione e in quanto immagine di Dio, direbbe la teologia cristiana, è libertà. Sagge parole, condivisibili, anche se poi leggendo qualche notizia del passato, ne ripesco una del 28 settembre 2021 apparsa sul messaggero che ci dice che la chiesa di Papa Francesco ha optato per una linea durissima, quella per cui chi non ha il Green Pass o infame tessera verde, come mi piace chiamarlo, non può lavorare, viene sospeso e senza stipendio, precisa anche il messaggero. Così, ripeto, il messaggero 28 settembre 2021. Ora, qui c'è una contraddizione fondamentale, perché se Dio è libertà e rispetto della libertà e delle scelte delle persone umane, qui abbiamo una contraddizione notevole, perché la chiesa di Bergoglio, la neo-chiesa liberal progressista, potremmo anche definirla così, sembra invece non rispettare massimamente la libertà di scelta dell'individuo, se senza l'infame tessera verde non si può lavorare. Punto di domanda. Oppure una mia interpretazione errata, e in quel caso chiedo chiedo vegne e sono pronto a fare ammenda dei miei errori, riconoscendo che ho malinterpretato io. Ecco, insomma, se Dio rispetta la nostra libertà e le nostre scelte, lo fa ugualmente anche la neo-chiesa liberal progressista di Bergoglio? Questa è la domanda che pongo e per la quale non ho una risposta definitiva. Mi piacerebbe sentire anche la vostra visione delle cose. Grazie a tutti.